Allora era sera, eravamo già letto e ho sentito un rumore forte provenire dalla camera e c'era lui per terra, per questo non ne sono accorta. L'ho chiamato subito il 118 e l'operatore del 118 mi ha fornito tutte le prime manovre di primo soccorso da effettuare, mi ha detto di cominciare il massaggio cardiaco e finché non è arrivata l'ambulanza ho fatto il massaggio cardiaco. Che anno era? Due mesi fa, quasi, 7 agosto 2024. E questa era la seconda volta. Se l'ho fatto il 2015, il primo infarto. Però infarto, questo era un arresto cardiaco. E niente, è arrivata l'ambulanza molto velocemente e dobbiamo ringraziare tutti perché sono stati tutti speciali, sia gli operatori del 118 che l'operatore che mi ha parlato al telefono perché è stato molto prezioso senza di lui. Io non sapevo cosa fare, non avrei saputo cosa fare e tutto il reparto di cardiologia e la dottoressa Schieri che è stata speciale.